Ciao a tutti benvenuti al terzo appuntamento dei tutorial di Europe Direct Vercelli. Oggi io e Silvia vi parleremo di una nuova piattaforma online che si chiama OpenCulture. Buongiorno a tutti, con il video tutorial di oggi vogliamo presentarvi una nuova piattaforma che si chiama OpenCulture, un sito di archiviazione dove potrete trovare audiolibri, ebook, corsi online. Inoltre c'è una sezione interamente dedicata ai più piccoli dove ci sono video lezioni, app, siti e anche libri. Come europeana OpenCulture è una piattaforma ricca di materiale culturale. Ci sono anche molti mock come nella piattaforma Edex e molti molti film. Vediamo subito che cosa offre OpenCulture. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.